Quale spettacolo più bello, questa nuova maglia, questo rosso, il rosso saggio possiamo avere meglio di così. Non è stato un ritorno, non è stato un ritorno, ma non è stato un ritorno. Questo è l'ospizio che lo stiamo facendo, speriamo che sia bravito. Grazie per la vostra supportazione. Ho cambiato la zona, il posto, ma più o meno la base è sempre la stessa. Ecco fatto, è la baia, quello è lo scoglio delle tamerici, di fattori. Era il tempo del 1850 dei pittori livornesi e era appunto quello il punto di ritrovo, lo scoglio delle tamerici. Che bellezza ragazzi, ma vi rendete conto? Sullo sfondo si intravedono le Alpi Apuane, molto molto lontano ovviamente, però l'ingresso del porto lo si vede. Guardate che meraviglia questa estetatura, questo golfo. Qualche settimana fa era pieno, pullulava di gente, svestita, disordinata. Oggi non c'è un'anima viva e meno male, ho aspettato questo momento per fare questa ripresa, per godere insieme a voi, insieme a voi. Ripeto, speravo di trovare un colmorano o qualcosa di gabbiani o qualcosa del genere. C'è un sub in mare, altri due minuti per questo meraviglioso tramonto, voglio che si goda di questa meraviglia, insieme a voi. Ecco fatto. Bimbi, sono qua. Ciao. Ciao. E' Bruna. E' Bruna. E' Bruna. Ciao. 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 Salute. Ciao. Salute da Modino. Ciao. 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 No No